San Giuliano 21 anni dopo il giorno della memoria alle 11.32 l'ora del terremoto e rintocchi della campana del cimitero hanno ricordato le 30 vittime poi il corteo fino al parco della memoria bilancio regionale si attende la finanziaria procedura per il 2023 indirittura d'arrivo ma per il 2024 si apre un'altra partita le risorse stanziate dal governo meloni dovranno diventare legge dello stato prima di essere erogate biblioteca albino scontro alla camera scambio di accuse tra maggioranza e opposizione a montecitorio dopo sette anni di chiusura il movimento 5 stelle parla di situazione disdicevole replica fratelli d'italia in cinque anni al governo non avete fatto nulla restare in molise il giorno delle premiazioni con il concorso io promuovo il mio paese le giovani generazioni sensibilizzate sulla necessità di divulgare le bellezze e le identità dei propri luoghi serie di domani in campo per la non aggiornata campobasso in trasferta ad avezzano il termoli nella tana della capolista san benedettese basto girardi in casa con i chieti fc matese a fossombrone per i motori giuseppe testa vince il rally del lazio la coppa italia buon pomeriggio dalla redazione di tele molisi è il 31 ottobre il giorno della memoria 21 anni fa il terremoto di san giuliano di puglia questa mattina alle 11.32 l'ora della tragedia 30 rintocchi della campana del cimitero di san giuliano hanno ricordato le vittime poi il corteo fino al parco della memoria partiamo da qui dalla cronaca della mattinata con andrea nasillo sempre un tonfo al cuore san giuliano di puglia si ferma ancora una volta 21 anni dopo erano le 11.32 di quel maledetto 31 ottobre del 2002 una scossa tremenda di terremoto e il molise piombò nello sconforto crollò la scuola persero la vita 27 bambini e la maestra carmela ciniglio due donne morirono sotto le macerie delle proprie abitazioni oggi il giorno della memoria prima i 30 rintocchi di campana al cimitero poi il mesto corteo lungo il percorso segnato da quei tragici momenti fino al raccoglimento davanti a quell'unico pilastro rimasto in piedi simbolo di una tragedia incancellabile il suono assordante delle sirene riporta testa e cuore indietro di 21 anni a san giuliano sono giunti da ogni dove rappresentanti delle istituzioni associazioni studenti tanti dai più piccoli ai più grandi autorità civili e militari c'erano i familiari delle vittime nel loro composto e mutato dolore per riflettere e non dimenticare in paese il ricordo è ancora vivo la tragedia di san giuliano ha segnato il tempo ha lasciato un vuoto ha tracciato il percorso della memoria e la priorità resta una la sicurezza nelle scuole adesso invece ripercorriamo quella tragica giornata di 21 anni fa con le testimonianze di chi c'era e il ricordo dei presenti ancora Andrea Nasillo quel dolore non troverà mai fine il ricordo l'amore seminato in vita danno però la forza a chi da 21 anni piange figli fratelli sorelle nipoti anni caratterizzati da una battaglia di civiltà per edifici sicuri il ricordo è sempre fortissimo per noi tutti i giorni 365 giorni all'anno veniamo sempre qua perché qua ci abbiamo ci abbiamo tutto ci abbiamo il ricordo è doveroso farlo tutti gli anni per non va a dimenticare però mi accorgo che le tragedie continuano sempre a succedere sempre per colpa dell'uomo bisogna fare molto di più quelli che prendono tutto superficialmente arrogantemente pure e poi dopo quando succede la tragedia che piange piangiamo noi direttamente interessate io ho perso due bambini Luca e Gian Maria due gemelline di 9 anni e da allora è finita la mia vita la vita della nostra famiglia sono passati 21 anni da quel maledetto giorno del 2002 è come se fosse se tornassimo indietro veramente di 21 anni ma non solo il 31 ottobre il ricordo è sempre vivo in noi all'inizio è stato abbastanza difficile ma le lascio immaginare il dolore che questa comunità ha provato e prova ancora però a distanza di 21 anni si può dire che San Giuliano sta riuscendo a reagire e ha reagito da un lato il ricordo e la partecipazione al dolore dall'altro l'impegno a tenere sempre alta la guardia in Molise molto è stato fatto sull'edilizia scolastica in Italia tanto c'è ancora da fare il sentimento è sempre quello del ricordo di una tragedia che oggi assume i connotati della speranza nel costruire nuove scuole in Molise oggi ha raggiunto una buona percentuale di scuole antisismiche bisogna continuare su questa strada utilizzando tutti i soldi che lo Stato mette a disposizione sia a livello di PNRR soprattutto mi riferisco alle costruzioni per i micronito che alle scuole superiori che ci sono fondi dello Stato che vanno spese per la sicurezza dei nostri bambini quel dolore non si dimenticherà mai chi lo ha vissuto direttamente chi ha avuto la sventura di esserci in quel momento credo che non dimenticherà mai quello che è accaduto però devo dire con altrettanta sicurezza che da quel momento in poi quella tragedia è servita ad aumentare la consapevolezza per l'importanza e la difesa dei nostri figli di quello che non siamo stati in grado di difendere in quel momento e cioè lavorare per fare le scuole sicure abbiamo lavorato tanto siamo una regione ai primi posti in Italia per la sicurezza scolastica con il progetto se fossi diventato grande la prima H della scuola primaria Pistelli di Roma si è aggiudicata alla borsa di studio al 51esimo concorso nazionale sul tema scuola si lavora per la pace una borsa di studio finanziata dalla famiglia di Luigi Petacciato uno dei 27 bambini morti nel crollo della scuola di San Giuliano la giuria si legge nella motivazione del premio ha apprezzato l'appello dal forte valore pedagogico di far comprendere i bambini come il piccolo Luigi e i suoi compagni non abbiano potuto realizzare i loro sogni lasciandoli liberi di immaginare il loro futuro loro che grandi lo diventeranno e adesso invece vediamo come è stata celebrata la giornata della memoria in consiglio regionale come sempre si tiene il 31 ottobre una seduta monotematica proprio per ricordare la tragedia la seguita per noi Pasquale Di Bello alle 11 e 32 si fece buio su tutta la terra San Giuliano di Puglia scuola Francesco Jovine e il 31 ottobre 2002 è in quel momento che la cataratta della morte scende sulla vita di 27 bambini dai 6 ai 10 anni e di una maestra presente nell'edificio Carmela Ciniglio che di anni ne aveva 47 a spegnere la luce sulle loro vite una scossa di terremoto magnitudo 6.0 che fa cartocciare l'edificio dove in quel momento si trovavano 58 bambini 8 insegnanti e due bidelli un attimo e poi le urla la disperazione la polvere le sirene i soccorsi e poi il recupero delle salme quello dei sopravvissuti e poi ancora le bare bianche i funerali alla presenza del presidente della repubblica Carlo Azzelio Ciampi e poi ancora gli anni che passano inesorabili 1 2 3 fino ad oggi che se ne contano 21 per commemorare nel tempo quel lutto immane la regione molise con la legge 29 del 12 novembre 2003 ha istituito la giornata della memoria oggi in consiglio regionale la seduta solenne e straordinaria dell'aula aperta dall'intervento del presidente dell'assise Pallante Per quanto mi riguarda è davvero particolare la prima volta da presidente del consiglio però non posso dimenticare quei giorni in realtà ero già consigliere regionale proprio in quest'aula quando giunse la notizia ci regamo insieme ad Angela Fusco che allora era il presidente del consiglio a San Giuliano quindi conservo la memoria puntuale di quei momenti drammatici dell'aspettativa dei genitori del silenzio che si alternava ai noi alle urla dei genitori quando purtroppo c'erano quei momenti così drammatici e noi dobbiamo fare in maniera che insomma questo ricordo produca oltre che i sentimenti che viviamo dei fatti concreti approfittando del fatto che giungono delle risorse aggiuntive per le scuole a PNNR la regione deve concretizzare questi sforzi e fare dei passi in avanti A prendere la parola dopo Pallante sono state le consigliere Passarelli per la maggioranza e Salvatore per la minoranza da entrambe parole di cordoglio e di prospettiva sul fronte della sicurezza e sempre sulla sicurezza si è concentrato nell'intervento di chiusura il presidente della regione Roberti non dobbiamo abbassare la guardia detto il tema della sicurezza è sempre di attualità Dobbiamo continuare a far crescere la cultura della sicurezza e la consapevolezza che eventi calamitosi possono ancora accadere quindi dobbiamo essere pronti, preparati ma soprattutto mettere i nostri edifici pubblici in condizione da garantire ai nostri figli, ai nostri ragazzi a coloro che vanno a scuola soprattutto di poter stare in un ambiente sicuro e sano Dai bambini sopravvissuti, oggi adulti arriva un messaggio di speranza Roberti cita Pompeo Barbieri e Veronica D'Ascenso che oggi sono rispettivamente un ingegnere e un insegnante la loro esperienza è il segno della vita che continua di chi da quella tragedia si è rialzato anche per quelli che non ce l'hanno fatta e che adesso dormono, come dice la Chiesa Cattolica nella speranza della resurrezione E sull'anniversario di San Giuliano interviene anche Aldo Patriciello La memoria senza impegno politico e civile rischia di diventare un esercizio fine a se stesso dice l'euro parlamentare Quanto successo nel 2002 a San Giuliano ci impone non soltanto di ricordare quei tragici istanti ma anche e soprattutto di lavorare seriamente per garantire la massima sicurezza possibile per tutti gli edifici pubblici e privati E' una battaglia, aggiunge Patriciello su cui da tempo sono impegnato a Bruxelles affinché le istituzioni europee predispongano un fondo ad hoc da destinare esclusivamente alla prevenzione e alla messa in sicurezza dei territori a rischio E anche l'UGL Molise ricorda le vittime del terremoto nel ricordo della tragedia di San Giuliano di Puglia nella quale persero la vita 27 bambini e la maestra afferma il segretario regionale Giovanni Silvaroli il sindacato in memoria della triste giornata del 31 ottobre 2002 non dimentica gli angeli di San Giuliano E adesso cambiamo argomento parliamo di politica del bilancio regionale quello del 2023 è indirittura d'arrivo per il 2024 si apre invece un'altra partita le risorse stanziate dal governo Meloni dovranno diventare legge dello Stato prima di essere erogate Vediamo Per comprendere le traversie dei conti regionali bisogna fare un ripasso del vernacolo fiorentino e rispolverare la novella dello stento quella delle cose che non hanno mai fine sembra infatti questo l'accostamento più pertinente per descrivere le traversie di una contabilità alla quale l'assessore al bilancio Cefaratti e di conseguenza il presidente della regione Roberti hanno dedicato questi primi quattro mesi di lavoro è stato infatti il bilancio oltre alla sanità l'altro carico da 11 che i due si sono portati sulle spalle in consiglio dei ministri è già passato il provvedimento che offre al Molise due scialuppe di salvataggio dei conti pubblici la prima i 43 milioni stanziati per il 2023 e che consentiranno al previsionale per l'anno in corso un'approvazione nel mese di novembre la seconda invece più che una scialuppa è un battello di salvataggio l'erogazione di 200 milioni di euro 20 all'anno sino al 2034 per ripianare parte del disavanzo oltre 500 milioni di euro il cui resto dovrà essere coperto da sacrifici molisani leggi alla voce aumento delle tasse tecnicamente la regione molise dovrebbe varare entro l'anno oltre a quello per il 2023 anche il bilancio di previsione 2024 cosa impossibile un po' come provare a sfilarsi i pantaloni dalla testa anche dotati di bacchette magiche cefaratti, roberti e il proconsole leghista in Molise marone eminenza grigia per quel che riguarda le interlocuzioni romane non riuscirebbero a partorire alcun documento bisognerà quindi capire in quali tempi verrà approvato il bilancio di previsione 2024 il tempo limite per restare nell'amministrazione ordinaria è quello del 30 aprile del prossimo anno traguardo che rappresenterebbe un successo se i 43 milioni sono esigibili subito per il 200 bisognerà aspettare l'approvazione della legge finanziaria nazionale che nei prossimi giorni partendo dal Senato comincerà il proprio iter per l'approvazione da quel punto parte anche il 2024 per il Molise sperando che dalla novella dello stento non si passi parlando di Roma alla fabbrica di San Pietro adesso siamo alla cronaca in molte zone della regione sia durante la notte che poi questa mattina disagi e danni causati dal forte vento le raffiche hanno fatto cadere tabelloni e segnaletica stradale mentre in diversi casi hanno danneggiato alberi e piante diversi gli interventi dei vigili del fuoco qui con le immagini siamo a Campobasso dove nella tarda mattinata un albero è caduto nella strada a poca distanza dal liceo scientifico sono dovuti intervenire i pompieri per rimuovere l'albero e liberare così la strada state vedendo proprio le immagini che si riferiscono a questo intervento un episodio analogo è accaduto anche a Iserni alle 6 di stamattina in Contrada a Tiegno dove un albero secolare è caduto sulla strada comunale bloccando la circolazione per alcune ore anche in questo caso i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare l'albero e spostare i tronconi ai margini della strada per consentire il ripristino della viabilità adesso cambiamo argomento bisogna posticipare i saldi per recuperare i profitti delle mancate vendite della collezione autunno-inverno a conseguenza delle temperature troppo alte è la richiesta della consigliera comunale di Segna Filomena Calenda che della questione ha informato l'assessore regionale alle attività produttive Andrea Dilucente ce ne parla Valeria Migliore un autunno che sembra primavera un clima anomalo che frena gli acquisti della collezione invernale e così i commercianti di abbigliamento hanno chiesto di posticipare i saldi alla prima settimana di febbraio per avere tempo sufficiente a recuperare le vendite perdute sulla vicenda è intervenuta anche confesercenti spiegando che con le temperature più alte del normale le vendite di capi calzature e accessori autunno-inverno sono in netto calo con punte fino al 20% in meno rispetto allo scorso anno anche in Molise con i saldi fissati a inizio gennaio non ci sarebbe tempo per recuperare i profitti in merito si è espressa la consigliera comunale di Isernia Filomena Calenda a cui diversi negozianti della città si sono rivolti affinché il loro grido di aiuto giunga alla regione e di fatto l'assessore Andrea Dilucente si è già interessato della vicenda io sono stata contattata da alcuni commercianti ovviamente di Isernia ma credo che la problematica riguardi un attimo tutto il Molise tutta la regione in quanto abbiamo visto che è stata una stagione anomala e quindi ovviamente pensare di fare di andare con i saldi durante appena dopo il 7 gennaio credo che sia una cosa che non conviene ai commercianti e ovviamente si sta lavorando io ho anche contattato l'assessore Dilucente che mi ha dato massima attenzione e soprattutto sta verificando come ci si possa muovere quindi penso che a questo punto i saldi debbano essere postecipati perché insomma altrimenti davvero si cade ancora più in crisi della crisi attuale che è esistente novità per il bando di governo destinato ai piccoli comuni in seguito alla proroga dei termini per la presentazione delle domande pubblicata lo scorso 24 ottobre l'Anci Molise precisa che gli enti che intendono integrare o modificare la domanda già inoltrata possono richiedere la riattivazione del link inviando formale richiesta con una mail ordinaria all'indirizzo piano piccoli comuni chiocciolagoverno punto it non verranno prese in carico richieste inviate su altri indirizzi di posta elettronica tutte le informazioni aggiornate sul bando sono pubblicate nell'apposita sezione del sito del dipartimento casa Italia il caso della biblioteca Albino chiusa ormai da sette anni accede anche lo scontro tra maggioranza e opposizione in Parlamento scambio di accuse tra Movimento 5 Stelle e il centro-destra vediamo e scontro in Parlamento sulla vicenda della biblioteca Albino di Campobasso chiusa da più di sette anni con tanto di scambio di accuse tra maggioranza e opposizione ad attaccare il Movimento 5 Stelle con la deputata Anna Laura Orrico che ha presentato un'interrogazione al ministro della cultura Gennaro San Giuliano intervenga scrive la parlamentare dell'opposizione per superare la grave crisi in cui versa la biblioteca Albino in modo da poterla al più presto restituire alla piena fruizione dei cittadini e degli studiosi l'esponente 5 Stelle parla quindi di situazione disdicevole ricorda l'importanza del presidio culturale nel quale è conservato un patrimonio di migliaia di pubblicazioni e sottolinea che la biblioteca è stata chiusa dopo che nel 2016 fu firmato un accordo per il passaggio delle competenze dalla provincia di Campobasso al ministero della cultura ricorda anche la lettera scritta a San Giuliano dal sindaco di Campobasso Paola Felice la petizione popolare sottoscritta da migliaia di cittadini chiedendo la riapertura alla deputata dell'opposizione risponde dalla maggioranza la parlamentare di Fratelli d'Italia Elisabetta Lancellotta voglio ricordare alla collega Orrico del Movimento 5 Stelle afferma che niente nei tre anni dei governi guidati da Giuseppe Conte è stato fatto per riaprire questo importantissimo polo culturale della regione molise ancora una volta il governo Meloni deve risolvere problemi creati o snobbati dai governi guidati dal Movimento 5 Stelle Lancellotta quindi sottolinea che San Giuliano ha già annunciato che la biblioteca ripartirà il ministro spiega la deputata sta alacremente lavorando per riaprire la biblioteca ridando ai molisani uno straordinario tempio della cultura per troppo tempo lasciato abbandonato mi chiedo piuttosto conclude Lancellotta dove siano stati i grillini nella passata legislatura essendo stati continuamente al governo i carabinieri di Isernia hanno incontrato a pesche gli anziani del paese per parlare di truffe e furti anche alla luce degli ultimi episodi che si sono verificati in provincia nel corso dell'incontro al quale ha partecipato anche il sindaco Maria Antenucci gli uomini dell'arma hanno illustrato le strategie che i malviventi mettono in atto per ingannare le categorie più fragili gli anziani hanno partecipato con interesse hanno rivolto molte domande l'incontro fa parte di una serie di appuntamenti che l'arma in programma con l'obiettivo di prevenire fenomeni allarmanti e accrescere il senso di fiducia dei cittadini verso le istituzioni e restiamo in tema perché ai seni i cittadini non si sentono più sicuri diversi gli episodi che hanno provocato allarme in città dal ritrovamento di siringhe in pieno centro ai furti che sono stati messi a segno nelle ultime settimane il comune sta lavorando ad un patto per la sicurezza finanziato dalla regione siamo andati a sentire cosa ne pensano i cittadini con Valeria Migliore Isernia non è più una città tranquilla come lo era un tempo a dirlo alcuni cittadini siamo preoccupati dichiarano perché non ci sentiamo più al sicuro un'aria di allarme insomma quella che si respira in città dopo il ritrovamento di alcune siringhe nel parco stazione e nel centro storico oltre ai numerosi furti messi a segno nelle scorse settimane in molti chiedono maggiori controlli tranquilla su alcuni punti di vista ma non non diciamo proprio come si dice con i controlli infatti diciamo un po' più più seri perché comunque abbiamo i dico sempre abbiamo un esercito qua i segni tra polizia finanza carabinieri però vedo che i controlli sono un po' un po' così un po' fugaci diciamo in alcuni punti su alcune cose qualcosina è cambiato ci sta molto spaccio e quant'altro sì c'è un po' di cambi ci sta è certo che non mi sento al sicuro da tutte le parti insomma furti tutti i giorni qui preciso non so dove però so che nei dintorni ci sono furti in continuazione anche con gente entro casa ci sono persone che subiscono queste cose in realtà si dovrebbe alla base mettere un cancello come si suol dire come anche al nord dove le ville comunali i parchi devono essere chiusi cioè il problema parliamoci chiaro non è solo delle siringhe nei parchi il problema è che ci entrano con le biciclette quindi loro col fatto che essendo un parco si sentono liberi di camminare e purtroppo non è possibile perché ti trovi biciclette quindi parliamoci chiaro non è solo il problema delle siringhe prima era una città più tranquilla rispetto ad oggi sì era tranquilla prima si passeggiava per il corso è cambiata i segni i segni è cambiata intanto il comune sta lavorando al patto per la sicurezza un progetto finanziato dalla regione che si aggiunge a una serie di misure già avviate per aumentare i controlli verrà infatti stipulato un protocollo di intesa con il ministero dell'interno al fine di collegare la videosorveglianza direttamente alle forze dell'ordine maggiore è anche la presenza sul territorio della polizia municipale il cui organico sarà potenziato ora parliamo di scuola e di restanza un concetto con il quale i promotori del concorso io promuovo il mio Molise hanno voluto esprimere la necessità di divulgare le bellezze e le identità dei propri luoghi di nascita o di residenza quello di restare in Molise è un tema che deve essere sviluppato hanno detto soprattutto tra le nuove generazioni la cerimonia di prevenzione si è tenuta al Centrum Palace di Campobasso ce ne parla Giovanni Di Tota cinque scuole e tantissimi bambini entusiasti di partecipare a un concorso che aveva come obiettivo quello di promuovere il proprio paese l'iniziativa sostenuta anche dalla regione è stata promossa dall'azienda autonoma di soggiorno del Molise ed è giunta alla sesta edizione al premio di quest'anno hanno partecipato l'istituto comprensivo Leopoldo Montini di Campobasso l'istituto superiore di Boiano e Vinchiaturo l'ipsia di Montenero di Bisaccia il centro provinciale istruzione per adulti di Isernia e la scuola Manzoni di Cerce Maggiore ovviamente festanti e contenti gli alunni e gli studenti che sono arrivati per la cerimonia al Centrum Palace di Campobasso dove si è svolta la premiazione l'idea supportata quest'anno anche da un intervento economico da parte della regione prende spunto dal fatto di far conoscere ai ragazzi i propri luoghi un punto di partenza fondamentale per quella che gli organizzatori hanno definito restanza cioè la possibilità di continuare a vivere in Molise anche per le prossime generazioni e divulgare le caratteristiche la storia l'identità dei luoghi di nascita è un compito che deve svolgere la scuola fin dai primi anni l'inno di Mameli cantato dagli emozionatissimi studenti davanti al presidente Roberti e al rappresentante dell'ufficio scolastico Giuseppe Posillico ma anche i sindaci e gli assessori dei comuni di appartenenza delle scolaresche premiate con Ovidio Bontempo assessore di Sernia e Luca Praetano di Campobasso il sindaco di Cerce Maggiore Gino Mascia gli assessori di Boiano Carmen Romano e Raffaella Columbro oltre alle scuole una menzione speciale è andata alle poetesse e professoresse Lorella del Gesso di Termoli e Maddalena di Tommaso di Campobasso e proprio per rafforzare il concetto di restanza il premio per il CPA di Sernia è stato ritirato da un immigrato del Bangladesh che è riuscito a coinvolgere con i suoi canti tutti i presenti Enrico Brignano raddoppia in Molise dopo il grande successo della prima data in regione in programma il 29 novembre all'auditorium di Sernia è andata a sold out in poche ore il popolare conico ha accettato di replicare il suo spettacolo è stata così fissata una nuova data prevista per il 28 novembre le prevendite per il secondo spettacolo saranno aperte questo pomeriggio alle 15 su Ciao Tickets Assel in collaborazione con l'agenzia Agora cooperativa sociale ha organizzato per oggi pomeriggio alle 16 l'iniziativa Il nostro Halloween Sai al terzo spazio centro per il volontariato in via Cirese a Campobasso sarà un pomeriggio annunciano gli organizzatori all'insegna dell'animazione sono invitati a partecipare i più piccoli con questo appuntamento termina il nostro telegiornale delle 14 vi lascio al meteo poi come sempre ci sono le notizie sportive grazie per averci seguiti buon pomeriggio a partecipare a partecipare a partecipare